buongiorno ancora una volta siamo qui minuti prima del via cercare di fare un giro alla pista di monza con tutti voi e cercare di avere tutte le emozioni qui siamo rettilineo lungo di monza dove si va in pieno fino a 310 e 320 all'ora è una grande staccata la cichene abbastanza piano, scivola, è abbastanza difficile tenere una strada giusta qui si va in accelerazione alla massima velocità ancora qui siamo in punta a proprio fase di sesta marcia e andiamo a una grande staccata ancora una volta per questo cichene e poi andiamo verso le due curve molto molto difficili di tutto il campionato queste curve di lesmo sono veramente difficili molto impegnative siamo in quarta, quinta marcia non si può sbagliare al minimo qui perché non c'è area di fuga poi andiamo alla massima velocità ancora una volta una pista di altissima velocità a monza e andiamo verso un altro cichene a dove si si stacca abbastanza e si cerca ancora di cambiare una marcia durante questa cichene per andare a rettilineo che viene prima del vettino del box andiamo verso parabolica si vede tutto il pubblico il tifosi ferraristi e andiamo verso parabolica un corvole abbastanza in creativo in accelerazione adesso tutta potenza cambiando marcia proprio adesso poi ancora una marcia per andare proprio all'ultima marcia velocità in pieno così abbiamo finito in giro abbiamo vinto l'anno scorso qui a monza cerchiamo di rifare questo risultato vediamo dopo ciao ciao